Via, ho bevuto le proteine, 11 gennaio 2022, sì, nuvole sempre più stute e sempre più basse. In questo secondo video della quarta giornata di sci a Borgno vedremo le piste Prime, Monte e Stelvio ripetute più volte. E iniziamo con il tratto di bue della Primont, pista rossa. La stessa caccia di merda. Grazie a tutti. Teniamo la sinistra e continuiamo sulla pista Primont nel tratto D3, sempre pista rossa. Sassi, sassi, sassi. Grazie. 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 Andiamo verso sinistra per prenderla. La stradina di raccordo. Grazie a tutti. 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 Sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Grazie a tutti. 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 Andiamo verso destra per prendere il secondo tratto della pista a stadio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati alla seggiovia Fontanalonga pronti per risalire e andare a rifare la stessa discesa. Stesse piste. Nuvole sempre più basse. Siamo di nuovo a Valbella. qualche fiocco di neve e vai questo è positivo iniziamo la discesa sulla D2 Primer i Ready to neve We the cambiata la batteria si riparte direzione verso sinistra e continuiamo sulla Primemont nel tratto D3 e continuiamo grazie a tutti teniamo la sinistra e andiamo a prendere la stradina di raccordo S3 Primont Rock grazie a tutti grazie a tutti andiamo con la Stelvio che è la tenuta adesso è tornata meglio grazie a tutti 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 continuiamo continuiamo sulla Stelvio nel tratto A2 grazie a tutti siamo arrivati di nuovo alla Stelviovia Fontanalonga pronti per risalire e ripetere le stesse discese e vai again and again ok udilità ultra piatta siamo a Valbella 2527 metri sul livello del mare e vai e vai che si va sulla Primemont D2 pista rossa che si va Grazie. Grazie. Come prima teniamola a sinistra e andiamo a prendere il Tracker D3 della Primark. Grazie. Come sempre teniamo la sinistra per prendere la stradina di raccordo S3. Grazie. 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 Andiamo a prendere il secondo tratto della pista Stelvio a 2. Grazie. Siamo di nuovo all'impianto seggiovia Fontanalonga, pronti per risalire e ripetere ancora, ma lo vedremo nel prossimo video. Ciao alla prossima!